Musica Ben ritrovati cari telespettatori, ben ritrovate anche le nostre ospiti, ci va molto piacere avere qui con noi Stefania Botton, segretario territoriale con delega le pari opportunità CISL, Padova e Rovigo, grazie, ben ritrovata Lorenza Leonardi, responsabile coordinamento donne FNP CISL, Padova e Rovigo, grazie anche a lei, era quasi doverosa, era ovvio che facessimo questa puntata dedicata al 25 novembre, ma diciamo che la data, io lo dico sempre, sono delle occasioni per riflettere su delle situazioni molto gravi, violenza di genere, disparità di genere e atteggiamenti che sono inopportuni, inappropriati, a volte lesivi e molto gravi, bisognerebbe parlarne sempre, anzi farne una ragione portante, una modalità di comportamento costante, ma riflettete anche voi che ci state ascoltando, vi capita a volte di fare delle o di essere presenti, testimoni a delle disparità di trattamento tra uomo e donna, bambino e bambina, ragazzo e ragazza, piccoli gesti, piccole osservazioni, piccole cose, perché queste piccole cose poi possono diventare cose molto più importanti, possono portare a delle mentalità, forme mentis, a un modo di ragionare che diventa sempre più divaricatorio e poi si arriva, si può arrivare, casi patologici anche a gesti estremi, a volte inconsulti, a volte premeditati, a seconda delle situazioni gravissime. Allora, il sindacato della CISL e insieme anche alla FNP CISL ha organizzato anche di recente, continua ad organizzare momenti di incontro per sottolineare l'importanza di tenere alta l'attenzione, è vero segretaria? Perché alla fine si tratta questo, non mollare mai perché altrimenti non appena uno dà per scontato che una cosa è risolta si riprecipita, adesso proprio risolto non è niente perché continuano ad esserci atti anche ferati proprio in questi giorni, in queste giornate. Prego. Certo, che la cosa sia risolta non è affatto vero perché i numeri e le statistiche ci dicono che i fenomeni di violenza, intesi in tutti i sensi a 360 gradi perché la violenza non è solo quella fisica ma è quella psicologica, è quella economica, è quella dei gesti della quotidianità, non sono per niente diminuiti, anzi devo dire che c'è stato un aumento di quelli che sono i casi di violenze e molestie anche nei luoghi di lavoro che sono quelli che noi come organizzazioni sindacali attenzioniamo. E sempre più i nostri operatori delle federazioni delle categorie si ritrovano nelle sedi ad affrontare situazioni particolari in cui appunto non c'è il mancato rispetto contrattuale, quindi non vengono a denunciare il fatto che non sia stato rispettato il contratto collettivo nazionale di lavoro ma vengono appunto a denunciare fenomeni di pressione psicologica da parte dei colleghi maschi, anche di tipo fisico qualche volta che mettono veramente a dura prova le donne nei posti di lavoro. Non più tardi di 15 giorni fa abbiamo assistito e ricevuto la segnalazione in un'azienda di Padova in cui c'è stato proprio una lite tra uno dei dirigenti, diciamo era un caporeparto che se l'è presa e sono arrivati alle mani con tanto di calci e pugni con una dipendente a tempo determinato, era una trimestrale. Ovvio che noi cerchiamo in tutti i modi di intervenire in questi casi cercando di mettere in campo quelle che sono le nostre relazioni con tutte le istituzioni poi che sono deputate a farsi carico, qui c'è stata anche una denuncia penale quindi la persona è stata sospesa ma noi ci auguriamo che venga licenziata perché nel momento in cui in un posto di lavoro viene messo in atto un comportamento di questo genere ovviamente deve venire meno la fiducia nei confronti di quel lavoratore che tra l'altro non era la prima volta che metteva in atto comportamenti discriminatori e molestie nei confronti. Quindi c'è alla base un comportamento discriminatorio e una molestia. E una molestia ma una violenza di tipo fisico anche in questo caso. Ecco, il chiedo è solo una cosa a questo proposito, proprio per far comprendere anche i nostri telespettatori ma se la persona, la medesima persona che succede nelle aziende normalmente è aggressiva, aggredisce, molesta, mette le mani addosso a uomini e donne che siano quindi a prescindere? Qui deve essere fatto assolutamente, messo in campo un protocollo che deve, intanto interrompere quello che è il circolo della violenza e devono di solito noi ad esempio come organizzazioni sindacali in base al tipo di violenza che viene perpetrata decidiamo se andare alle forze dell'ordine piuttosto che alla consigliera di parità ad esempio abbiamo un rapporto costante con le consiglieri di parità della provincia di Padova e Rovigo e alle consigliere ci rivolgiamo quando ci sono delle situazioni di disagio psicologico, mobbing che sono anche difficili da dimostrare tante volte perché... Sono molto difficili infatti. E in questo modo cerchiamo di mettere in rete appunto quelle figure istituzionali come la consigliera che è un pubblico ufficiale e che ha anche la possibilità poi di gestire la parte con dei legali che sono gratuiti e che le donne devono sapere assolutamente che hanno la possibilità di farsi aiutare e avere anche il patrocinio legale gratuito nei casi in cui si tratta appunto di una violenza o molestia nei confronti delle donne e la consigliera di parità ci aiuta ad andare intanto a metterci in comunicazione con l'azienda per cercare di eliminare quello che è il fattore di rischio per il futuro perché è ovvio che noi dobbiamo arrivare a casi zero è questione di salute e sicurezza dei lavoratori nei posti di lavoro tra l'altro quello che l'azienda fa nel proprio posto di lavoro per mettere in atto tutte quelle che sono le azioni di contrasto alle forme di molestie e violenze nei luoghi di lavoro va inserito addirittura nel documento di valutazione dei rischi quindi rientra nella casistica proprio di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le aziende stesse nel momento in cui mettono in atto comportamenti virtuosi vengono premiate perché quello che stiamo cercando di fare anche come organizzazioni sindacali è quello di diffondere il più possibile quella che è la cultura il fatto che dobbiamo cambiare la mentalità e che questo porta anche dei benefici le aziende che riescono a nel loro ambiente a mettere in atto comportamenti positivi a fare in modo che ci sia anche per quanto riguarda le donne un riconoscimento di quelli che sono i pari diritti quindi il diritto alla conciliazione vita lavoro quindi qua entrano anche altre tematiche che non sono strettamente collegate alla violenza ma come dicevo all'inizio la violenza non è solo quella fisica ma è anche quella economica e psicologica nel momento in cui le donne nei posti di lavoro non vengono messe nelle condizioni di poter appieno prestare la propria professionalità perché magari a casa hanno dei figli da accudire o degli anziani da accudire e chiedono un part time per questo a volte non viene concesso al contrario invece ci sono situazioni che le donne invece subiscono e si tratta di tanti part time involontari che sono costretti a prendere anche non voluti perché vengono imposti dal datore di lavoro sono situazioni che si parla con molta tranquillità perché sono dati di fatto è che dietro ci sono veramente dei drammi personali e delle situazioni anche di fragilità psicologica si gioca sul filo anche emotivo di affettività a volte di senso di responsabilità perché poi anche dal punto di vista familiare a volte ci sono delle pressioni a fare certe scelte pressioni psicologiche non voglio arrivare a pensare a pressioni fisiche anche se poi in certe situazioni possono anche verificarsi a che la donna faccia certe scelte che diventano scelte forzate soprattutto quando la donna deve fare accudire un familiare che succede spesso quindi parlarne sì è bene però bisogna tener conto che per reagire a queste situazioni non è così facile ci vogliono degli strumenti anche di forza psicologica di supporto psicologico assolutamente e soprattutto serve una grandissima diffusione di quella che è la cultura di genere perché molte volte anche le donne stesse pensano di dover essere loro a doversi far carico di certi lavori lavori di cura e quant'altro e invece dobbiamo scardinare questi vecchi stereotipi che purtroppo continuano a persistere nella nostra società e che provocano poi tutte le conseguenze che quotidianamente viviamo fino ad arrivare a purtroppo gli episodi eclatanti come quelli che sono avvenuti in questi giorni che vedono le donne soccombere anche fisicamente di fronte a uomini che continuano a volere un possesso a tutto tondo della persona dichiarano amore ma in realtà non è amore è assolutamente l'esatto contrario è possesso di una persona ecco qui ci vorrebbe una psicologa però chiedo l'intervento anche di può avere molta esperienza nel settore quindi di Lorenza Leonardi ha detto una cosa molto interessante la segretaria di quello che non è amore e quindi ritenere anche per cultura educazione forse per vissuto familiare anche questo è rilevante che quelle attenzioni che si ricevono quel comportamento di cui si oggetto possa configurare la fattispecie amore cioè possa essere amore e in realtà così non è qui c'è un grosso problema di fondo cosa dice? io penso di sì ma penso che riguardi principalmente il tema delle relazioni della qualità delle relazioni anche all'interno della coppia delle famiglie all'interno come dire di quei sistemi dove le persone stanno insieme e vivono in questa fase una difficoltà in particolar modo mi viene alla mente anche qualche riflessione fatta da alcuni psicanalisti di recente che evidenziano proprio la la riduzione della soggettività femminile in questa fase ossia c'è la prerogativa da parte principalmente della componente maschile in una relazione di tentare di modificare di non riconoscere l'alterità cioè chi è l'altro anzi c'è il tentativo anche di ridurre l'alterità quindi di non riconoscere per esempio la libertà l'autonomia la domanda di espressione le competenze che vediamo il caso di Giulia questa ipotesi che il suo violentatore abbia come dire causato il tutto perché non riteneva che lei dovesse studiare dovesse essere più brava di lui ecco interrompo un attimo voi state dicendo delle cose molto importanti e le voglio riprendere perché così i nostri telespettatori ci seguono anche dopo la pubblicità avete sentito quello che ha detto la se non è la segretaria la coordinatrice comunque Stava Leonardo ha detto delle cose molto importanti pensateci pensateci un attimo fate due considerazioni sul proprio vissuto perché potete anche su questo maturare dei convincimenti farvene anche un punto di forza o di reazione o di segnalazione a persone che vi stanno vicine che vedete vivono una situazione di anomalia a tra poco se state con noi canale 19 a Bosnato l'acqua l'acqua a l'acqua a l'acqua Grazie a tutti.